Davide cosa stai preparando? Stiamo preparando un risotto alla barba pietola adesso andremo ad impiattare. Lo stai mantecando? Si, mantecato il burro andremo a mettere delle barba pietole, dessiccate e fritte della salsiccia cruda di brà della salsiccia di brà? Si è tutto ton sur ton qua, è tutto sul rosso e adesso mettiamo un po' di colore e mettiamo lo sbilancino fresco del nostro orto per chiudere il piatto quindi è tutta una base un po' terrosa? Si questo piatto è stato preparato da? Cristalli Davide Chef Cascina Nautier Chieri Torino